Ha disegnato di tutto, dalle sedie agli hotel. Ha vinto premi e lavorato con i più prestigiosi designer e perlustrato ogni angolo d'Oriente. Lei si presenta con questa frase, per dare forma alle cose mi ispira ad una buona frittata. L'ospite di oggi è un architetto di punta di quel design internazionale che dall'8 al 13 aprile celebra il suo evento massimo al Salone del Mobile di Londra. Oggi parliamo di Loredana Cinti. È davvero impossibile elencare lo sterminato numero di consulenze e direzioni artistiche che la Cinti ha macinato per le aziende, i premi vinti, le mostre deate nel pianeta. Per la prima volta firma due hotel a Phuket e Miami Beach per Christina Hong, una delle più grandi buyer internazionali del turismo mondiale.